Benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti, perché karma rosso? Dunque, karma è causa effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire. E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato due o tre cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso. Perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati, amici. Qui è Karma Rosso. Benvenuti o bentornati, amici. Qui è Karma Rosso. Sempre seguendo quello che è il nostro fedele compito di crescita spirituale, affrontiamo con questa lettura la tematica dell'astrologia. Ogni tanto ci sono dei movimenti particolarmente interessanti e quindi vado ad analizzare che cosa significa avere a che fare con quei cambiamenti nella nostra vita. Il cambiamento astrologico di cui sto parlando avverrà per i prossimi vent'anni. Quindi ci sarà Plutone in acquario e ci saranno veramente dei momenti di estasi, dei momenti di quasi shock, vorrei dire, per il cambiamento o comunque per la tipologia di nuove realtà che si mostrano e si svelano. E ci saranno anche, pare, delle chiamiamole ricompense, ma sono più che altro il frutto di quello che è stato messo in atto negli ultimi vent'anni nelle nostre vite. Quindi abbiamo qui quattro scelte, sono quattro rune, adesso le andiamo a svelare. Voi scegliete quella che volete, potete tornare qui anche più avanti, anche perché se questo movimento va avanti per vent'anni, voglio dire, non avete di tempo per tornare, o potete fare più scelte. Potete anche fare una di queste scelte pensando a qualcun altro, cioè come sarà il cambiamento nella vita di questa persona, cosa sarà la tematica principale nel cambiamento di questa persona. Quindi andiamo a vedere effettivamente quelle che sono le rune. Allora, per il primo gruppo abbiamo questa. Per il secondo abbiamo questa. Per il terzo abbiamo questa. E per il quarto abbiamo questa. E le mettiamo qui. Se vi serve, mettete in pausa. Io intanto vado ad incominciare dalla numero uno. Eccoci qui, gruppo numero uno. Mettiamo la nostra luna lì e cominciamo a vedere che carte ci parlano nei prossimi vent'anni della vostra vita. Quale sarà il focus principale? Che cosa andrà a creare cambiamenti questo Plutone in acquario? Nella vita di chi sta guardando questo gruppo per i prossimi vent'anni? Ok, allora, prima di tutto abbiamo sicuramente un senso di liberazione. Quindi parliamo di una liberazione che principalmente io percepisco come una libertà economica, una libertà concettuale, una libertà emotiva, che poi mi danno un senso di liberazione. Quindi ci sono diverse situazioni nella vostra vita che convergono attorno a questa tematica e che portano poi a un'elaborazione che ovviamente non avverrà nell'arco di cinque minuti, ma di vent'anni. Però il risultato finale è sicuramente un gran senso di leggerezza. Ovviamente andando per gradi, avvenendo questo cambiamento per gradi, ci saranno momenti sempre migliori, ci saranno pesi che a mano a mano scompaiono progressivamente. Però per fare questo evidentemente ci sarà anche bisogno di portare alla superficie non solo ciò che già sapete non sta funzionando, già sapete che dovete in qualche modo portare ad allontanarsi dalla vostra vita, ma ci sarà forse anche bisogno di affilare un po' le armi e quindi di rendersi conto che alcuni aspetti di noi, per riuscire ad ottenere dei buoni risultati, hanno bisogno comunque che ci mettiamo un pochettino le manine. Quindi non voglio dire che ci saranno grossi momenti di disagio, però sicuramente sapete ormai come funziona un po' l'universo. Qualcosa che noi desideriamo può arrivare in forme anche migliori rispetto a quella che la nostra visione ristretta delle cose ci permette di anticipare, però non è mica detto che avvenga esattamente come vogliamo che avvenga, quindi ci sono dei momenti magari che sono un po' dei colpi di scena o che vengono percepiti come prima cosa, come una perdita e non un guadagno. Credo che sarà in realtà un percorso abbastanza in discesa e credo che a un certo punto vi renderete conto che avete fatto un grande sforzo per arrivare fino a dove siete arrivati, ma è tutto guadagnato, quindi non c'è neanche la possibilità che il peggio torni indietro o che vagamente qualcosa di negativo vi venga a toccare di nuovo. Ora, dammi un'idea di come avviene tutto questo. Allora, ci saranno dei momenti in cui sicuramente, come dicevo, dovete lavorare in qualche modo sulla manifestazione, su come si ottengono certe forme di libertà e di emancipazione, chiamiamola pura emancipazione, e quindi ci sarà bisogno della vostra energia attiva, quindi credo che nei prossimi vent'anni vi sarà possibile raggiungere tutto quello su cui mettete la volontà. Sarebbe diverso se vi avessi detto lo raggiungerete perché ci saranno le congiunzioni favorevoli, per cui certe rotture di scatole se ne andranno naturalmente. No, qui ci vuole l'impegno, però di positivo c'è che informandosi e nutrendo un senso di speranza dentro di voi, che probabilmente sarà sollecitato da questo movimento di Pluto in Aquario, avrete modo di rendervi conto che niente è irraggiungibile, che si può davvero arrivare dove si vuole e che fino ad ora magari le cose non sono andate tanto come volevate perché non c'era quella sensazione di fiducia in voi stessi, che comunque si può comprendere se aveva difficoltà a farsi sentire perché le avversità ci fanno sicuramente sentire deboli e magari anche incapaci, impreparati, però ci deve sempre essere un momento in cui non importa quello che succede ma continuiamo a credere in noi stessi e con questo movimento credo che effettivamente questo tipo di energia si manifesterà, quindi voi comincerete poi a manifestare alla vecchia maniera, no? In maniera maschile diciamo, cioè con l'azione diretta. Questo è molto positivo. Verso che risultati si va? Verso che risultati? Ok. Era questo, ma me ne sono cadute altre 100.000. Ok, c'è una parte di voi che fino ad ora ha creduto, per dire se è il termine più adatto, ha creduto che ottenere dei risultati significava in qualche modo conoscere anche molto bene le leggi del mondo. mi spiego. Quando uno ci si trova davanti a un percorso difficile, uno cerca di solito di comprendere meglio che può quello che ha davanti prima di fare una qualunque mossa. Il punto iniziale per voi è stato qualche anno fa rendervi conto che effettivamente bisognava conoscere meglio il territorio. Per cui che cosa avete fatto? Avete raccolto informazioni. Normale, è giusto così. Le informazioni che avete raccolto però non hanno approfondito la materia in maniera da costituire un aiuto, un sopporto. Hanno approfondito invece quel buco di alone, di mistero e di non conoscenza che c'era sulla tematica. Quindi in qualche modo è stato almeno di primo acchitto controproducente. E quindi vi siete trovati bloccati con questa sensazione che, sì, adesso ne so un po' di più, ma sapendo un po' di più vedo un po' di più quanto sono nella cacca, no? O quanto veramente devo lavorare, o quanta fortuna mi serva, o quanto ancora io non sappia per riuscire ad avere tutti gli strumenti che mi servono. Quindi c'è stato il momento del disagio, no? Del senso di dispersione. Quindi questo movimento invece di Plutone in Acquario porta a una capacità di vedere che tante delle cose che avete scoperto approfondendo questa tematica prima di fare una mossa erano, non dico, delle cose inutili, ma sicuramente non così importanti nel quadro generale. Ne facevano parte, ma non erano determinanti nello scopo che avevate di cercare di cambiare la situazione. Quindi c'è un po' come dire questo Plutone che porta via le illusioni. Dice, guarda che in realtà ti serve molto meno per fare questa mossa. In realtà è un po' infantile credere che la visione di questa situazione sia così, così e così. In realtà è inutile che porti avanti queste credenze così ampie perché non farai mai combaciare ogni elemento in questa situazione. Quindi se qualcuno, per esempio, visto che siamo in ambito qui di guarigione, realistico, spirituale, era convinto che per risolvere un proprio problema doveva entrare in contatto con qualunque guida spirituale del mondo, andare da chissà che sciamano, imparare a fare chissà che cosa spiritualmente per riuscire ad avere uno sblocco della propria situazione perché magari riuscire a guadagnare di più, per avere salute di ferro e così via, si renderà conto che quello che serviva era un piccolo cambiamento di prospettiva interiore. Una prospettiva interiore vista come cambio emotivo, non mentale, perché il mentale qui vi ha portato ad avere più confusione che altro, proprio perché mancava questa chiarezza con noi stessi all'interno. Quindi c'è veramente un cambiamento, possiamo dire che in qualche modo tutto diventa più chiaro e le mosse da fare diventano ovvie. Ecco che allora si attiva quella che avevamo detto essere la necessità per voi di diventare assolutamente protagonisti delle vostre azioni. Allora, vediamo, 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 andiamo a vedere un po' quali sono le energie principali qui. Le energie principali in atto. Che cosa caratterizzerà principalmente il nostro Plutone in acquario? Trasformazione. Trasformazione che, vi ripeto, non avviene per miracolo, avviene secondo i ritmi naturali. E i ritmi naturali hanno anche, voglio dire, i ritmi astrologici abbinati a quelli astrali e prevedono che le cose, chiamiamole cose, no? Cose che ci interessano arrivino, si manifestino, quindi giungano a compimento nel momento giusto. Perciò noterete che sì, magari fino ad ora avete un po' girato in tondo, ma non era tutto buttato. Aveva senso. Non avreste costruito Plutone o meno in acquario questo senso di scoperta, questo senso di capacità di concentrazione e così via su quelle che sono veramente le vostre tematiche e su quello che bisogna veramente fare. Quindi c'è una maturità qui che arriva a diventare fruibile alle vostre desideri di azione. La porta al cuore. Come vi dicevo prima, non si tratta di usare meglio la mente, ma di usare meglio il nostro sentire interiore, quindi il nostro cuore, i nostri sentimenti, le nostre emozioni. Ovviamente è difficile in una lettura generale dirvi che cosa si può intender nello specifico, però posso dirvi che per come funzioniamo noi come esseri umani le nostre emozioni, il nostro corpo emotivo, chiamiamolo così, perché le emozioni sembrano essere un oggetto, il nostro corpo emotivo, quindi questa parte di noi che elabora il sentire interiore è centrale, è centrale alla nostra vita, alla nostra morte, a tutto quello che esiste. Quindi che noi amiamo o meno questo aspetto, prima o poi sarebbe veramente salutare, cominciare a prendere familiarità. È per questo che io ho scelto questo come ambito di lavoro principale. E poi rispondere alle stelle. le stelle penso nell'immaginario di chiunque, ma nel mio di sicuro rappresentano principalmente quello che noi mettiamo in un cassetto del nostro cuore e lo continuiamo a nutrire guardandolo in segreto fino a che poi un giorno si spera ci sarà la situazione perfetta per portare manifestazione a questo desiderio. qui abbiamo finalmente i vostri desideri che cominciano a prendere corpo a incarnarsi a diventare reali e che vengono come avete visto da una trasformazione che passa attraverso la porta del cuore non la parte del me non la porta della mente se riusciamo a parlare oggi è un miracolo e quindi ci sarà poi un'azione che è coordinata a questo tipo di movimento un movimento interiore quindi liberazione come tematica principale che avviene attraverso sicuramente qualche guadagno economico ma soprattutto un guadagno emotivo è un cambiamento rispetto a quello che è la nostra sensazione di quanto valiamo e di quanto sia effettivamente stato valido il nostro giornaliero tentativo di diventare quello che volevamo perché poi i risultati cominceranno ad arrivare in questo senso quindi buona non voglio dire buona fortuna ma buon percorso a voi ok noi ci vediamo intanto più avanti con le prossime letture sul mio canale ricordatevi che se avete bisogno di una lettura personalizzata mi trovate qui anche per un lavoro personalizzato ma poi ci sono link sempre ovunque guardate bene troverete i link per lavorare con me e poi sotto qui vedete quello che è l'indirizzo instagram in cui potete avere contenuti di alto valore ma non solo su quella che è la divinizione soprattutto sulla crescita personale ok noi ci vediamo un po' avanti qui è tutto da Carmarosso ciao ciao bene scelta numero 2 mettiamo in la nostra runa e andiamo a vedere per voi di che si tratta qual è il focus di plutone in acquario nella vostra vita per i prossimi 20 anni torniamo in acquario nella vita di chi sta guardando per i prossimi 20 anni ci sono una serie di focus sicuramente sono concatenati perché comunque poi ci sono sempre le tematiche personali quindi sicuramente il piano astrologico e quindi astrale va a favorire o a toccare aree in particolare ma poi ciascuno di noi ha le proprie tematiche e queste tematiche rispondono a quelle che sono le nostre energie personali allora aspetta che ho toccato la telecamera ok che cosa succede principalmente molto focus sulla vostra parte fisica quindi qualcuno magari pensa di andare in palestra qualcuno pensa di dimagrire qualcuno pensa di guarire i problemi che ha da una vita che non riesce a capire da dove gli vengano a livello fisico intendo e quello diventa assolutamente un po' la chiave di lettura di tutto quello che accade poi per 20 anni perché perché l'appoggio fisico che riuscirete ad avere nei prossimi 20 anni appoggio energetico intendo fisico vi renderà capaci di usare al meglio le vostre energie tanto quelle che appartengono al passato quindi alle vostre esperienze quanto quelle che appartengono alla vostra capacità animica e quello che è il vostro progetto che cosa significa ci sono cose chiamiamole così cose che non possono attivarsi in noi a meno che il nostro fisico non sia in grado di reggerle per esempio se io avessi un sistema nervoso distrutto o profondamente traumatizzato al punto da avere che ne so una forma di bipolarità attiva potrei avere grossi problemi a fare canalizzazioni a leggere le carte in maniera affidabile e stabile e quindi che cosa succede nel momento in cui vado a guarire tutti i miei traumi il mio sistema nervoso alleggerisce il carico comincia a ritornare a funzionamento pieno o quasi insomma e io riesco a rielaborare il passato facendo un strumento per il presente e il futuro e tutte le mie capacità tornano a funzionare pienamente ecco che questo porta a un cambiamento nella mia vita anche economica per esempio o nella mia parte spirituale perché magari uso quelle mie capacità per dedicarmi al volontariato o magari finalmente riesco a capire qual è il mio scopo nella vita e vado a cambiare il mondo perché il mio scopo era pulire gli oceani ok quindi ci sono tematiche di vario tipo nella vostra vita che scatteranno si attiveranno nel momento in cui la parte fisica verrà a guarigione quindi per voi sicuramente questo è il focus principale avverrà attraverso notizie dirette attraverso movimenti molto precisi credo che potreste vedervi recapitare le risposte che state cercando da un bel po' come un qualcosa che arriva in maniera molto efficace molto diretta sul vostro telefonino nella vostra email attraverso la bocca di amici attraverso un qualche sito internet quindi quello che cercate arriverà in maniera molto chiara nel momento in cui lo cercherete ed ecco che arriveranno magari le cure perfette che vi servono per guarire quel problemino che avete fisico vi arriverà il contatto perfetto per fare un certo tipo di cambiamento interiore emotivo che vi portava a problemi fisici di un certo tipo quindi fate molta attenzione io direi all'aspetto comunicazione all'aspetto proprio che può avere a che fare sia con internet che con l'intelligenza artificiale che con le comunicazioni con altre culture c'è proprio la tematica in generale di comunicazione sistema nervoso perché poi tutto quello che riguarda il parlare il comunicare il mettersi in comunione raggiungere qualcuno sono tutte energie mercuriane alla fine di queste energie fa parte anche il sistema nervoso il sistema nervoso non regola solo voglio dire le emozioni è responsabile di conseguenza alle emozioni di tutto quello che è l'equilibrio romonale nel nostro corpo e perdonatemi non è poco ma i nostri ormoni gestiscono ogni cosa da come battiamo gli occhi a quanti respiri facciamo a quello che pensiamo come ci sentiamo quello che mangiamo quello che ci piace sessualmente e non quindi capite quello che siamo veramente ed ecco perché queste tematiche per voi sono strettamente connesse è molto bello che ci siano delle comunicazioni dirette perché altrimenti uno va veramente impazzire tante volte a cercare notizie finalmente vi arriva anche la capacità di poter disporre velocemente e chiaramente di queste informazioni che vi servono per portare i cambiamenti c'è una sorta di consiglio qui si dice non sovrapensare adesso non pensare che ogni notizia sia giusta per te non pensare che ogni informazione sia proprio l'informazione migliore o quella che stavi cercando però ci sarà un gran movimento di queste informazioni nella tua vita quindi evita di voler prendere tutto come come una sorta di destino scritto dall'alto che ti si rivela davanti e tu non devi fare altro che fare la tua parte la tua parte di recita più che altro no? fare il tuo personaggio in questo progetto divino no si tratta semplicemente di imparare a discernere meglio le informazioni utili da quelle che non lo sono e a non prendere tutto di petto forse questo è anche una delle tematiche che andranno a toccare poi la tua capacità di guarire in generale perché forse c'è stato un sovraccarico dell'aspetto ricerca di informazioni per guarirti per trovare equilibrio di nuovo e magari hai provato di tutto e ti sei anche scoraggiato quindi ci sta questo consiglio viene detto la giustizia che aspetti viene da te il riequilibrio di vari aspetti della tua vita viene da te non la cercare fuori non ha senso quindi è proprio un viaggio all'interno di voi stessi questo per i prossimi vent'anni ovviamente non avverrà tutto in cinque minuti perché stiamo parlando di un raggio d'azione di vent'anni come ho detto mille volte fino adesso però ci saranno sicuramente dei grandi scaglioni di miglioramento questa impressione ci saranno proprio delle fasi in cui direte questa cosa l'ho sistemata l'energia principale ritrovare la tua via di casa è un ritornare al mago qui che vediamo è un ritornare al pieno potere e utilizzo del nostro potere quindi va bene ci sarà magari nei primi che ne so nelle prime fasi i primi mesi il primo anno due forse tre è una guarigione progressiva dell'aspetto fisico che poi porta a capire che cosa è successo da un punto di vista veramente spirituale per portarci poi a manifestare esattamente quello che siamo il mago è una carta molto importante perché parla di portare su questo piano esistenziale che noi chiamiamo realtà fisica quella che è l'essenza del nostro essere non è poco è tutto è riuscire a mettere finalmente in atto lo scopo di vita che abbiamo se veramente abbiamo uno scopo perché poi ragazzi qui si apre e si chiude un grande argomento però questa energia plutonica vi aiuta a ritornare a casa e diventare chi siete per davvero so che ce n'è un'altra perché l'ho sentita se magari ti fai vedere eccola eccola qua ed erano tre in uno ti vedo si gentile con te stesso e semplicemente vola è un messaggio unico perché perché ritrovare la via di casa e ritornare quindi a noi stessi significa riuscire a vederci davvero per quello che siamo soprattutto riuscire a vedere le nostre ferite le nostre mancanze i nostri sbagli perché nessuno sicuramente fa giusto al primo colpo quello che è proprio la complessità della nostra storia come essere umano in questo dobbiamo essere gentili con noi stessi perché se ci giudichiamo con cattiveria portiamo avanti le ferite che ci hanno bloccato fino ad adesso ed ecco allora che ci liberiamo e ritroviamo la strada di casa quindi io direi assolutamente un percorso di guarigione lo definirei su vari versanti abbiamo detto guarigione fisica ma sappiamo tutti che non siamo fatti di compartimenti stagni siamo un ingranaggio fatto di varie parti e qui significa che cominciando magari a guarire da una tematica fisica in realtà ci ritroviamo a fare un grande percorso non solo di liberazione dai problemi ma di veramente manifestazione totale di chi siamo voglio dire quasi vi invidio ok chissà quale sarà la mia tematica per i prossimi vent'anni quindi io vi ringrazio di essere stati qui e vi auguro di ritrovarci con le prossime letture sul mio canale se avete bisogno di una lettura più approfondita personalizzata o volete semplicemente mettervi su un percorso di guarigione mi trovate questo indirizzo mail o vi consiglierei di andare sul link che trovate sotto in descrizione al video nel primo commento con i marcatori temporali e che vi conduce proprio al format giusto per inserire la vostra richiesta di collaborazione e guarigione se invece semplicemente volete approfondire queste altre tematiche di crescita personale mi trovate al mio indirizzo instagram vi ringrazio e noi ci vediamo più avanti qui è tutto da carna rosso ciao ciao lettura numero 3 ok mettiamola qui qual è il focus principale di questo produttore in acquario per chi sta guardando questa lettura matematica principale il focus doveva focalizzare questo produttore in acquario qui andiamo sul livello familiare andiamo su quello che è ciò che abbiamo ereditato da chi è venuto prima è una tematica molto ampia perché poi qui ci si mettono dentro per esempio il concetto di credenza il concetto di voto il concetto di mancanza il concetto di rabbia diciamo che il vostro focus sarà tutto rivolto principalmente ovviamente alle tematiche familiari che magari si mostrano inizialmente come un problema all'interno dell'equilibrio familiare c'è quella classica disputa sull'eredità c'è un problema a comunicare con i nostri familiari ci sono parti della nostra famiglia o anche tutta con cui veramente vorremmo non avere nulla a che fare e così via però si sveleranno mano a mano nell'arco di vent'anni perché questo è il percorso di Plutone in acquario varie tematiche e comincerete a capire meglio quello che è successo anche molto indietro forse alla vostra famiglia magari vi ricollegherete a qualche lontano parente o riceverete informazioni di quello che è stata veramente una verità nascosta o non dichiaratamente messa sotto la luce da chi è venuto prima e quindi qui io percepisco guarigione sicuramente ma anche approfondimento spirituale direi più che altro c'è un ritornare come alle origini rendersi conto che non siamo altro che l'eredità genetica mentale emotiva di chi è venuto prima unito alle nostre risorse personali non a parte diciamo da quello che è venuto prima di noi perciò ci saranno dei momenti in cui forse sarà difficile accettare che non siamo solo diversi dai nostri antenati ma siamo anche strettamente connessi vediamo qui come avviene tutto questo sì allora mi si dice sarà necessario mettere subito in gioco come fattore principale di spinta verso questo ritrovarsi col passato il fatto che siete profondamente insoddisfatti così insoddisfatti che alla fine se anche vi capitasse davanti agli occhi l'occasione che state aspettando da una vita non potreste rendervene conto perché è un po' come quando si va a cercare che ne so ecco probabilmente questa immagine non so chi di voi abbia la passione di andare in montagna per cercare dei funghi ok le prime volte che si vanno a cercare dei funghi che non si sono mai veramente magari visti dal vivo o non si sono mai trovati in ambiente naturale c'è sempre questa difficoltà riconoscerli una volta che lo si fa già di abitudine riconoscere sia i punti dove trovarli che il fungo stesso diventa molto semplice perché è come se dentro al nostro cervello si formasse la capacità proprio di vedere forme colori e similitudini in quelle che di solito sono le nostre esperienze pregresse riguardo quello specifico fungo quindi mi viene facile trovare più funghi ok ora questa cosa mi farò un po' sorridere però è un tipo di esperienza che posso trarre dal mio vissuto e che vedo ogni volta ha a che fare con il nostro modo di essere il nostro sistema nervoso funziona in specifici modi e quindi quando noi siamo alla ricerca di qualcosa ma non abbiamo l'abitudine di vederlo perché siamo delusi dal fatto che spesso non l'abbiamo vista è riscontrata nella nostra vita di tutti i giorni nelle nostre esperienze quando questa cosa ci si pone in avanti non la riconosciamo non la vediamo o la svalutiamo la scartiamo a priori ed è quello su cui lavorerete per i prossimi vent'anni ovviamente non sempre allo stesso modo andrà sempre meglio fino a che questa energia arriverà a maturità e poi comincerà a portare i frutti però sicuramente ci sarà la tematica della delusione quindi comincerete a dire sono stato deluso fino ad adesso ma mi rendo conto che forse è giunto il momento di mettere da parte questo senso di delusione è giunto il momento di cominciare a lavorare meglio su certe tematiche e infatti come puntata finale di questo percorso di vent'anni non c'è la continua delusione ma c'è il mondo c'è il fare di esperienze strumenti di vita per arrivare dove voglio per arrivare ad avere il mondo il mondo è una carta fantastica il mondo non ha bisogno di spiegazioni come ti sentiresti se ottenessi il mondo intero ok se tutto finalmente giungesse alla proprio compimento se tutto finalmente combacciasse se tu conoscessi davvero come funziona la vita quindi questo plutone qui credo che vi faccia un upgrade vi aiuti proprio a vedere veramente la realtà delle cose attraverso che tipo di ok probabile che comincerete anche ad approfondire di più conoscenze a livello proprio teorico quindi magari qualcuno si interesserà di guarigione energetica magari qualcuno si interesserà di psicologia magari qualcuno farà dei corsi dei seminari dei ritiri anche semplicemente non bisogna per forza diventare dei maestri però andrà magari a leggere qualcosa parteciperà a associazioni che ti permettono di sfruttare il potere del gruppo per riuscire a creare guarigione e comprensione di se stessi e qui vedo il collegamento tra il valore del gruppo che dona senza per forza doverci mettere qualcosa se non il proprio sforzo e la tematica della famiglia e della linea familiare che è quella di partenza il gruppo la tribù sono a volte famiglie di sangue a volte amici a volte persone che ci donano qualcosa anche se sono degli sconosciuti quindi c'è proprio questa esperienza di famiglia che comincia a elaborarsi e che giunge poi veramente a portare grandi risultati quindi quali sono le tematiche principali e il punto d'arrivo la tua canzone è ora quello che sei e quello che la tua anima esprime lo sei e lo diventi durante questi vent'anni lo sei ora come vista di un'energia contrapposta all'energia di chi è venuto prima contrapposta non intendo che deve essere contraria a chi è venuto prima quelli di prima erano dei santi io farò che ne so l'eretico no sto parlando del fatto che chi è venuto prima è un tipo di energia crea basi crea solidità chi è venuto dopo nel presente ora crea innovazione crea una nuova maniera di vivere le cose perché la vive a modo proprio quindi il tuo modo di esprimerti è tuo ma non puoi conoscere il tuo modo di esprimerti se non riesci ad avere punti di riferimento e i punti di riferimento più grandi che possiamo avere come esseri umani è ciò che è stato prima ascolta più a fondo connettiti come si diceva con il mondo non a livello solo di oggetto e di cose che puoi ottenere in questo mondo di cose che tu puoi fare ma connettiti al quadro complessivo che cosa significa guarda nell'aspetto spirituale guarda nell'aspetto emotivo guarda gli umani come comunità quindi qui c'è davvero una diciamo ancora una volta la sensazione di approfondimento di quella che è la tua esperienza di vita perché pensavi magari di aver capito tante cose ma ti avevano portato solo delusione quindi non avevi capito esattamente a livello profondo che cosa significa per esempio il valore della compassione il valore della gratitudine quindi qui facciamo un passetto in più io vi auguro il meglio ovviamente spero di avervi aiutato con questa lettura ora se avete bisogno di un approfondimento ulteriore con una lettura personalizzata o volete fare del lavoro su voi stessi mi trovate all'indirizzo mail o comunque trovate anche dei link specifici per la lavorazione delle proprie tematiche personali dove ci sono i marcatori temporali sotto al video nel primo commento e così via oppure mi potete anche tranquillamente seguire su Instagram dove trovate sicuramente tanti contenuti su queste e altre tematiche per la crescita personale noi ci vediamo intanto più avanti sul mio canale con le prossime letture qui è tutto da Carmarosso ciao ciao ed eccoci con la quarta scelta la mettiamo lì e andiamo a vedere quale sarà il focus principale il futuro in acquario per chi sta guardando questa lettura il focus principale il futuro in acquario nella vita di chi sta guardando questa lettura per i prossimi 20 anni c'è un alleggerimento c'è un alleggerimento di qualunque peso avete presente quando notate che le cose si complicano anche se fate tutto giusto dall'inizio avete mai notato che ci sono magari persone come voi che anche se ci mettono un impegno anche se sono buone persone anche se quello che vogliono fare le vogliono fare a scopo voglio dire positivo e pacifico hanno sempre qualche rogna hanno sempre qualcosa che sembra impedire loro di riuscire ad arrivare a buon fine hanno sempre mille complicazioni non necessarie ecco se questi siete voi vi ci riconoscete siete proprio nella lettura giusta perché qui mi si dice che tutti quei disguidi tutte quelle rotture di scatole tutte quelle persone che si mettevano in mezzo con la loro negligenza o le loro pretese e vi rallentavano vi infastidivano vi davano problemi tutte quelle quei cavilli che dovevano essere al centro del vostro interesse prima ancora di riuscire a risolvere un effettivo problema sono tutti aspetti che questo plutone in acquario porta via per i prossimi vent'anni quindi possiamo dire progressivamente ci sarà una pulizia della vostra energia del vostro campo energetico una pulizia delle difficoltà della vita e credo che cominceremo a focalizzare di più sul guarire in questo caso il guarire non è come il guarire che abbiamo affrontato nelle tre letture precedenti di questa tematica ma è un guarire nel senso di cicatrizzare nel senso proprio di giungere finalmente ai passi finali quindi come avverrà questa energia come si mostrerà prima di tutto il senso di sconfitta il senso di sconfitta che se ne va nuove occasioni che arrivano una sensazione di poter essere finalmente aiutato visto considerato perché poi non è mica detto che a tutti quelli che stanno guardando qui sia andato nello stesso modo quindi ognuno avrà situazioni diverse che torneranno alla mente mentre faccio questa lettura però tutti hanno sperimentato che cosa significa poi la sensazione di abbandono abbandono da parte della fortuna abbandono da parte dei familiari abbandono da parte dell'umanità un senso di isolamento di sconfitta in questo senso quindi quella sensazione è qualcosa che smette di farsi viva e torna in una chiave di lettura che permette di come possiamo dire di ritrovare la maniera di sentirsi invece sostenuti non voglio dire che cambia la vostra prospettiva perché non avete fatto nulla in realtà di sbagliato per arrivare a sperimentare tutte queste fatiche tutti questi sforzi che non andavano a buon fine ma c'è finalmente uno sblocco è questo Plutone che in acquario per vent'anni comincia a sbloccare una serie di meccanismi energetici nella vostra vita che vi permettono poi finalmente di smettere di sentirvi alla deriva no? questo è molto bello molto interessante ok come avviene quali sono le modalità bellissimo perché potrebbero arrivare anche diverse fonti economiche da diverse situazioni quindi magari più possibilità di lavoro qualcuno si mette in proprio qualcuno decide di fare volontariato ed ecco che riceve qualcosa in cambio che sperava diciamo che c'è una maniera di esprimervi nel mondo in maniera diversa quindi portate la vostra energia in un modo che permette al vostro essere di cominciare a mettere in moto l'abbondanza e di cominciare quindi a usufruirne avrete sicuramente un gran senso anche di autostima che va a crescere perché non si tratta solo di ottenere risultati ma di sentire che i nostri sforzi sono effettivamente apprezzati pienamente sono effettivamente in grado di portare dei risultati che sono comparabili alla fatica che ci abbiamo messo e così via quindi veramente il senso del potere personale qui va a aumentare diciamo non voglio dire in maniera sproporzionata perché comunque gli sforzi prima li avete fatti e quelli sì che erano sproporzionati però vi stupirà anche la vostra capacità di gestire qualunque situazione la vostra capacità di finalmente non vedervi più in bilico finalmente non dover più aspettare non si sa chi per ottenere non si sa neanche più cosa quindi ci sono veramente grosse occasioni nell'arco di vent'anni di guarigione emotiva da questo punto di vista cioè finalmente la pace arriva finalmente uno dice caspita dopo tutti questi sforzi ecco i risultati quindi ritornerete anche da un punto di vista psico emotivo somatico come lo volete chiamare a sentirvi più forti a sentire che avete anche messo da parte una grande quantità di conoscenza su vari soggetti in particolare su quello che è probabilmente l'andamento del mondo il vostro funzionamento interiore quindi la sensazione sarà quella di essere bravi ok di essere esperti di essere in qualche modo arrivati perché molti diranno ho pagato i miei debiti in anticipo adesso è il momento del guadagno non è una questione di debiti è una questione proprio di percorsi di vita che ha a che fare con mille energie che abbiamo dentro ognuno ha le proprie però sicuramente la sensazione sarà quella di ricevere finalmente un ripago allora quali sono le energie principali che finalmente ed è andato a scomparire magicamente là sotto datemi un istante ecco lì eccoci qui finalmente l'ho recuperata le ho recuperate come dicevo no difficoltà non necessarie eccoci qui questa è l'energia che è ancora in alto ma sta per cambiare ragazzi allora vola e basta sii gentile con te stesso e ti vedo queste stesse carte sono cadute insieme per un'altra lettura ma caspita non so se la terza o la seconda comunque se fosse che avete un dubbio anche con altre scelte per questa lettura andatevi a vedere anche quella su cui avevate voglia di approfondire comunque perché probabilmente per voi sono connesse ma può essere anche che no sicuramente qui si tratta di riuscire a vedere voi stessi per quello che siete senza l'illusione che ci fosse qualcosa di sbagliato in voi o che magari stesse scontando un chissà quale pena magari comincerete anche a realizzare che insomma certe scelte problematiche le avete fatte perché in quanto esseri umani quando si viene continuamente spinti con la testa sotto all'acqua si comincia a cercare soluzioni alternative anche magari estreme o che ci mandano fuori da quello che è il personaggio che vorremmo essere quindi c'è un senso di liberazione perché finalmente qui diversamente dall'altra lettura in cui queste carte erano comparse la liberazione è proprio il senso classico si sblocca nelle energie energie che vi tenevano imprigionati in una gabbia di continuo rimestamento dei soliti problemi che in qualche modo si mostravano sempre in una forma o nell'altra quindi c'è veramente finalmente la possibilità di arrivare dove volete e sentirvi anche fieri di chi siete ok ora se avete bisogno di un'altra lettura o di approfondire magari qualche tematica di guarigione personale fare un percorso di guarigione in questo senso mi trovate all'indirizzo mail qui sopra oppure trovate semplicemente i link che ci sono in descrizione del video o dove c'è il commento con i marcatori temporali o anche sul mio sito voglio dire se invece semplicemente volete un po' approfondire queste altre tematiche che sono comunque tematiche di guarigione spirituale mi trovate al mio instagram io intanto vi auguro assolutamente il meglio tanti successi perché questa lettura di questo parla e ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture qui è tutto da Carmarosso ciao 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 ciao